Lunedì 18, anzi martedì 18, due giorni di scampate, la mattina non capisco più neanche che giorno è 18 come gli anni che si hanno solitamente più o meno, massomeno quando si fa la maturità domani la big and bad, mia figlia la prima, sempre la preferita per definizione la prima sempre più problematici i primi ma forse anche per questo ci vuoi tanto bene e allora in bocca al lupo amore mio ma in bocca al lupo a tutti voi amici sconosciuti, maggiorenni sconosciuti che sposta il focus, non testa il sa, non avere paura quello che sai sai, quello che non sai, falla ancora in questi giorni ma non strafare, il cervello mette tutto al posto giusto sposta il focus, ve lo levate dai maroni, non andate più a scuola dopo 5 più 3, 8 più 5, 13 anni che vi sopportavo non vi sopportavo più la mattina, non vi potevo più sentire la mattina, noi ci avevamo da andare a lavorare pure noi cazzi nostri e secondo te sta male? E allora sì, levatevi questa maturità di maroni, fatevi un anno, un mezzo anno sabatico non lo dire a nessuno che l'ho detto, ma fatelo, godetevela, non tornano, non li vendono nei negozi sono gli anni più belli della vostra vita, in bocca al lupo a voi e viva la vita, imparate non so male, io vado a far mio, però te